Good morning, buongiorno Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, come state? Spero voi bene, io insomma questa mattina non sono al massimo della forma, è un raffreddore, un po' di febbre, spero di riuscire ad arrivare a fine trasmissione, per fortuna oggi verranno in tanti in supporto e quindi ce la farò dai, anzi, 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 anche voi potete venire in supporto quest'oggi più che mai alla 3317853555 per così diventare anche voi protagonisti della nostra trasmissione, potete condividere con noi, con Whatsapp, tutto quello che state facendo, che farete o anche i programmi per il weekend, perché oggi è venerdì 7 giugno, è venerdì e quindi Thanks God is Friday, 7 e 10 della mattina, cosa state facendo in questo momento? potete raccontarcelo, come vi ho detto, al 3317853555 tanti gli ospiti di oggi, verrà qui in studio con noi anche Silvia Gatti, che nella seconda parte terrà un po' le redini della situazione e poi abbiamo Iribi con gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe e anche altri collegamenti che insomma durante la mattinata sentirete tanti tanti gli ospiti che questa mattina saranno qui con noi a raccontare un po' la nostra città, raccontare Milano, raccontare quello che succederà nel weekend e raccontare appunto quello che è successo in questi giorni, come sempre anche i giornali qui davanti a me, pronti per essere letti tante le notizie di oggi, insomma abbiamo un bel menù ricco in cui possiamo, per passare queste due ore, possiamo ficcarci menù ricco mi ci ficco, come è che funziona così, no? e allora iniziamo con la musica però, perché siamo Cristal Radio, Milano si sente e si sente anche la bella e grande musica, energia! Wulzade, Planet Funk, Wulzade, insomma una di quelle che si ballano molto molto volentieri chissà se l'hanno ballata anche nelle feste di fine anno che ci sono in questi giorni durante, in questi giorni appunto per la scuola feste di fine anno, che perché vi sto raccontando questo? Perché su Repubblica e anche sul Corriere in realtà la notizia di ieri, la pazza festa per l'ultimo giorno di scuola a Milano oltre 30 intossicati dallo spray al peperoncino in due diversi istituti, 23 portati al pronto soccorso primo caso alla tecnico Oriani in via Pisa, il secondo all'istituto superiore Marelli in via Livigno intervengono 118 forze dell'ordine per assistere studenti e docenti e sono finite così le feste appunto di fine anno Milano, spray al peperoncino in due scuole superiori leggermente intossicati studenti e insegnanti così in titola il Corriere della Sera Milano il primo episodio appunto alle 10 e mezza di ieri mattina all'istituto Oriani Mazzini in via Ugo Pisa il secondo una mezz'oretta dopo in via Marelli Dudovic scusate al Marelli Dudovic in via Livigno e qui pensate la nube urticante ha colpito più persone di quelle che appunto hanno colpito nella prima scuola come sempre insomma si è perso un po' la situazione questi spray al peperoncino che sono complicatissimi da gestire e non è facile avere non si capisce perché qualcuno dovrebbe andare a scuola con lo spray al peperoncino in tasca sinceramente questa domanda me la faccio volentieri boh non si capisce comunque sta di fatto che solo due scuole mi viene da dire c'è nata anche bene se solo due scuole è successa questa roba perché davvero sembra quasi che sia normale andare a scuola con dello spray al peperoncino ovviamente si è tirato fuori forse per scherzare forse per fare qualche gioco sta di fatto che appunto in quant'è che dice Repubblica 23, 30 intossicati tra due scuole e 23 portati al pronto soccorso come dicevamo appunto il primo episodio in via Ugo Pisa dove ha seduto Oriani e secondo in via Livigno in questo caso sono intervenuti gli agenti della questura i vigili del fuoco e i sanitari di Areu che hanno valutato sul posto circa 30 persone decidendo il trasferimento in ospedale per 23 di loro sono tutti studenti minorenni con lievi sintomi di esposizione alla sostanza tre ragazzi, quattro sono stati portati all'ospedale Buzzi tre al San Carlo, quattro al Fatemene Fratelli tre alla Clinica De Marchi tre al San Paolo e sei al Niguarda in entrambi i casi ancora da identificare chi ha spruzzato lo spray al peperoncino cioè chi è che è stato a iniziare questa cosa ma secondo me vedrete che alla fine non sarà uno solo che l'ha fatto ci sarà il gruppetto come minimo sempre così non capisco quale sia il divertimento del fare una cosa del genere sinceramente mi manca capire quale possa essere perché, cos'è che vi porta a dover spruzzare dello spray al peperoncino non lo so invece quello che sappiamo è che tutte le mattine quando usciamo di casa qualsiasi ora la mattina a Milano è così c'è il traffico ce n'è tanto, ce n'è poco, dipende ma quasi sempre ce n'è e quindi per capire bene qual è la situazione del traffico in questo momento ci colleghiamo con Luce Verde che ci dà proprio la fotografia in tempo reale di quello che è la situazione del traffico Milano città metropolitana e anche le strade intorno anche nella regione Lombardia diciamo e quindi colleghiamoci subito con Luce Verde per avere in tempo reale appunto la situazione del traffico e vai Alfa 7 e 22 minuti Crystal Radio Good Morning Milano notizia che leggiamo da corrida la sera a Milano perché ieri è successo questo attacco hacker alla ASST di Rodense colpiti gli ospedali di Garbagnate Bollate e Ro interventi ed esami rimandati l'attacco è partito nella notte le ambulanze vengono dirottate altrove il direttore generale stiamo garantendo i servizi essenziali in modalità cartaceo e sì perché l'attacco hacker alla ASST Rodense gli ospedali di Garbagnate Bollate e Ro sono stati costretti a rinviare gli interventi chirurgi non urgenti e altre prestazioni sanitarie a causa di sistemi informatici completamente in tilt convolti anche i presidi di Passirana le case di comunità e consultori collegati agli ospedali la RSA Pertini abbiamo problemi da stanotte dice appunto la nota e ci stiamo attivando come si fa in questi casi anche attraverso la task force regionale per ripristinare tutto il prima possibile questa è quella che è la spiegazione che dà al DN Cronos il direttore generale della ASST Marco Bosio stiamo garantendo i servizi essenziali in urgenza in modalità cartaceo perché i sistemi informativi non sono disponibili sono completamente bloccati il processo corso sta funzionando abbiamo invitato comunque a Reu a inviare le ambulanze in altri presidi quindi tutta la parte dei Rodense ieri è stata adesso pian pianino nella notte poi è ritornato tutto a quasi tutto a posto stanno sistemando un po' le cose e adesso poi quindi se avete da fare esami o accertamenti io una chiamatina la farei prima di muovervi perché insomma sicuramente non è non è proprio il massimo l'attacco hacker insomma qualcosa di importante sono sospese invece quindi le attività relativi a interventi chirurgici non urgenti e quelle di prenotazioni presso i CUP di ricovero programmato dei punti prelievo i pazienti TAU cioè in terapia anticoagulantorale possono rivolgersi all'accoglienza dei presidi spedalieri di bollate garbaniate ero per avere informazioni sulle modalità di esecuzione degli esami necessari per la gestione della terapia la regione ha poi coinvolto ARIA che è attivato la task force regionale di cyber security e l'ha allertato l'agenzia per la cyber sicurezza nazionale che invierà un suo team per facilitare l'azione di ripristino e dei sistemi informatici la polizia postale meneghina supportata dal centro anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche del servizio polizia postale per la sicurezza sto leggendo una cosa che non ho capito cosa sto leggendo sinceramente un elenco di cose sta raccogliendo c'è chiunque vabbè è ovvio ci sono 800.000 sistemi che stanno è un problema se dovete fare un esame da quelle parti davvero andate a chiedere perché è un problema bello bello grosso non sarà semplice non sarà per nulla semplice la gestione in questi giorni di tutto quello che è la SST del Rodense quindi abbiamo detto ospedali di garbagnate bollate ero e affini e vicini perché veramente è un grosso grosso problema Adriano Mappalardo ricominciamo ricominciamo ancora qui in diretta ricominciamo con Eri B che ci porterà dove e lo sapete gli eventi della settimana a cui non andrei buongiornissimo buongiorno 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 stai bene si vede si si come dire quest'anno le influenze non ci abbandonano no nessun tipo di influenza va bene va bene guarda ti porterò via poco tempo in realtà ma prendi tutto il tempo che serve ho un sacco di eventi vai allora con quello vuoi che inizi quello dei nostri competitor no quello non voglio neanche sentire parlare e invece io è il primo che ti dico allora questo sabato cioè domani e dopo domani 8 e 9 giugno al Parco Sempione ci sarà party like a DJ vabbè io sono sempre sul ba nel senso che troppa gente troppe cose non mi piace infatti non mi piace non ci fate ma giusto 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 ma non perché cioè a parte che non faccio nessuna festa ormai l'avete capito sì infatti non ho notato non vado da nessuna parte quindi va bene così poi c'è uno invece di evento che sicuramente non piace a te a cosa? è il grande concerto gratuito della Filarmonica della Scana in Piazza del Duomo allora la Filarmonica della Scana quasi quasi glielo potrei concedere però no in Piazza del Duomo nessuno le fa i concetti lo sai soprattutto perché vabbè ingresso è gratuito chiaramente ma immagino che ci si debba prenotare in qualche modo perché i posti sono contingentati però io spero sempre che regga il tempo siamo sempre lì un pochettino comunque domani in Piazza del Duomo poi c'è sai qual è l'altra cosa che a me non piace in generale non mi piacciono i comici non mi piacciono i comici perché di base la comicità diciamo facile è una cosa che non mi interessa e quindi sabato sabato 8 dalle 21 alle 23 c'è questo evento a Buccinasco in via Lombardia che si chiama il grande cabaret quindi il rullo di tamburi e quant'altro ci sarà un sacco da ridere ed è fatto da questo gruppo che si chiama evento dei poeti erranti e già qua mettiamo insieme anche i poeti che è un'altra di quelle cose è l'attimo fuggente eh sì molto probabilmente sì e loro si chiama così va bene va bene va bene poi ti piace la musica elettronica? sì ah ok perfetto perché ho scoperto scoperto esserci Alex Macello che non sapevo neanche dove fosse che è in via le Molise sabato dalle 18 c'è lo di fianco a Macao non sapevo fosse l'ex Macello è lo ZAMNA Festival che a quanto capito è uno dei fenomeni elettronici mondiali più rilevanti degli ultimi periodi hai capito e noi non ne sapevamo niente no pensa come siamo fortunati gli ultimi due eventi che ti voglio raccontare sono due eventi in realtà che mi piacciono ma ti spiegherò anche perché non vorrei andarci allora il primo è veramente una nota di merito a chi lo ha inventato perché è la birra efficienza ok dalle 6 dal 6 scusami dal 6 al 9 cioè da ieri a domenica dalle 19 alle 23 ci sarà a Trezzano sul Naviglio in via Castaldi questo diciamo festival dedicato alla birra mi hanno suggerito di portarsi l'autam perché è una zona super verde chi te l'ha suggerito una persona che abita a Trezzano sul Naviglio che ci va tutti gli anni di portarsi l'autam perché è una zona molto molto verde si chiama birra efficienza perché tutto il ricavato va a una una ps che si chiama gruppi f h che sono volontariato per persone con disabilità cognitive e per le loro famiglie io ovviamente non ci andrei non perché non mi piace fare volontariato ma perché non amo la birra però mi hanno detto che c'è anche tantissima ci sono tantissimi food truck e quindi si può anche mangiare bene tu ci andresti ma se c'è il food truck sì perché no ok ok l'ultima mi è stata suggerita da Adriana che solitamente insomma è una nostra fedele ascoltatrice è la Strabassotti 2024 la Strabassotti sì a Monza domenica 9 giugno fanno una marcia podistica non competitiva al parco di Monza appunto con tutti i bassotti oh mamma non ci andrei per il semplice fatto che i bassotti non sono la mia razza preferita non ce l'hai neanche un bassotto per andarci no e poi vabbè non ci potrei andare appunto per il bassotto però potrei portare un cane finto molto probabilmente un cane finto sì un po' pazzino un po' di tua storia è un bassotto credo sì 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 un cane finto di tua storia il giocattolo è un bassotto sì sì comunque si ci trovava alle 8 e 30 davanti a Villa Mirabello costa un botto io ve lo dico che il biglietto più caro costa 23 euro chiaramente vi danno anche da mangiare in quei 23 euro però insomma 23 euro per fare la Strabassotti ok sì 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 è bello ecco interessanti gli eventi questa settimana devo dire sì dai sono belli sono tanti un po' diversi anche la Strabassotti merita ah però volevo aggiungere una roba invece un evento dove io andrò ah dove vai a votare ah giusto beh sì ricordatevi tutti che sabato 8 dalle 15 alle 23 se non mi sbaglio sì e domenica dalle 7 alle 23 sì si vota quindi andate a votare sabato solo pomeriggio sabato solo pomeriggio guarda come sono ferrata infatti infatti brava brava non conosco gente presidente di seggi no no per nulla brava 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 l'Olanda sta già votando urca sì mi hanno partito i seggi ieri che figata votano così tanti giorni no forse votano solo ieri e oggi non so no no perché credo che tutti i paesi possono decidere è una settimana elettorale diciamo ecco no ma comunque andate a votare perché è un nostro diritto ma soprattutto è un nostro dovere ok e quindi cerchiamo di combattere l'assenteismo che diciamo nell'ultimo periodo è sicuramente il nemico numero uno quindi per la prima volta c'è un evento della settimana a cui Eri B andrebbe assolutamente since 2001 meno male meno male meno male ah dal 2001 che voti eh sì ok bene 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 grazie mille Eri B allora grazie mille a voi buona giornata a te grazie andiamo con la musica dei Comacrose Comacrose Malavita 7.43 minuti Cristian Radio Good Morning Milano allora ieri abbiamo letto un articolo che abbiamo letto insieme non vi ricordate che questa notizia che Trenord richiesta di risarcimento a 10.000 euro al portavoce dei pendolari per diffamazione ha diffuso informazioni false volevamo capirne meglio e all'interno dell'articolo c'erano anche delle frasi riportate del consigliere regionale Simone Negri che abbiamo meno male per fortuna grazie Simone in collegamento con noi buongiorno Simone Negri buongiorno ben trovati ben trovato a te allora Simone che cosa è successo qui posso dire che mi fa anche un po' ridere nella drammaticità della cosa mi fa ridere perché c'è 10.000 euro a Trenord manco se ne accorgono che gli diamo nel caso e poi comunque effettivamente uno non può neanche cosa è successo non mi avrebbe da dire uno non può neanche più dire facevo ieri l'esempio dicevo se adesso dico ma tutti i treni di Trenord sono in ritardo si sa che non è tutti tutti i treni ma uno fa una media la dice anche un po' più grossa a volte per far capire bene il messaggio diciamo ecco esatto io partirei proprio dal comunicato stampa che poi ha dato origine a questa intimazione a questa richiesta di risarcimento d'anni intanto Giorgio Dao non è solo un pendolare ma è uno dei rappresentanti principali dei pendolari a livello Lombardo ed è eletto pure nella conferenza del TPL quindi è un interlocutore privilegiato di regione Lombardia ed è una persona estremamente competente da anni segue questa direttrice che è una delle più sfortunate con maggiori disagi che è quella che va da Tirano passa per Sondrio Elecco e arriva a Milano su quella direttrice per darvi un'idea anche per via dei lavori le persone oggi prendono il pullman alle 3.44 della notte da Sondrio per arrivare alle 8 in stazione Cadorna quindi uno scenario che almeno a me ricorda quello che faceva i sacrifici che facevano i nostri nonni una forma di pendolarismo estremo quindi una direttrice su cui i passeggeri avranno anche tutte le buone ragioni per essere un attimino arrabbiati sta di fatto che Giorgio Dao è una persona molto competente in materia ferroviaria un ingegnere e ha scritto un comunicato per denunciare che cosa? per denunciare che regione ha comprato 20 nuovi treni per un valore di 128 milioni di euro e però li ha tolti dai servizi degli orari di punta perché caricherebbero 110 passeggeri in meno rispetto ai treni più vetusti e cosa hanno fatto allora? proprio negli orari di punta sono andati a resumare i vecchi treni ok quindi regione non per dire Trenord compra i treni nuovi li mette ma si accorge che non sono abbastanza capienti per quella fascia soprattutto e quindi rimette i treni vecchi questo dice il comunicato questo dice il comunicato o questa è la realtà dei fatti? questo è quello che vuole capire questa in realtà è la realtà di fatti tant'è che la stessa Trenord poi punzecchiata da noi del PD che abbiamo presentato un'interrogazione ha fatto sapere che la sostituzione dei treni è stata legata al fatto appunto del maggior afflusso di turisti su quella linea allora è vero che c'è il lago di Como è vero che è un'attrazione tutto quello che volete è anche vero che abbiamo avuto una primavera non proprio esaltante dal punto di vista della rileggiatura e del turismo però voglio dire comunque la stessa Trenord ha ammesso che c'è un problema di numero di passeggeri che possono salire sui treni e quindi ma cosa è successo a questo punto? la notizia poi di qualche giorno fa perché appunto Giorgio Dao riceve questa missiva da parte di Trenord che gli contesta sostanzialmente due passaggi uno un po' colorito in cui lui dice Trenord è andato a pescare i treni dai binari abbandonati della ferrovia dai binari morti è andato a pescare vecchi treni e quindi vedono questo come lesivo della reputazione dell'azienda e parallelamente ritengono minacciose una dichiarazione in cui Dao scrive vi diffidiamo dal mettere in servizio altri treni eccetera però voglio dire la più evocazione o soprattutto nessuno crede che Trenord si possa sentire minacciata è questo a me che fa un po' ridere nel senso che appunto la differenzione fatta da Dao non me ne voglia nel senso ma che potere comunicativo può avere anche il comitato che comunque sappiamo essere però insomma Trenord basta fare una campagna pubblicitaria e fai star zitti chiunque questo che io non capisco come possiamo minacciare Trenord mi viene veramente difficile pensare che qualcuno di noi riesca a minacciare Trenord però eh sì esattamente però diciamo che il mondo del pendolarismo è un mondo anche che si informa e ci sono diversi canali social quindi queste figure che torno a dire sono anche molto autorevoli perché sono 4-5 esperti rappresentanti dei pendolari hanno molto seguito appunto perché sono serie e preparate chi le migliaia di persone che prendono i treni tutti i giorni e che si lamentano dei servizi hanno accesso tramite loro a informazioni chiarissimo di dire già dopodiché però non penso che questi li possano i pendolari ok so che è tutto un disastro ma non è che posso poi cambiare decido di prendere un'altra compagnia non c'è cioè non è che Trenord perde magari un po' di appeal va bene però non è che perde i clienti diciamo no in realtà io credo che il tema sia proprio diverso infatti questa è la parte come dire più seria e che ci preoccupa il tentativo da parte di Trenord apro la parentesi chiudo la parentesi la giunta regionale di zittire chiunque abbia critiche circostanziate da muovere all'azienda all'azienda dei trasporti all'azienda del trasporto ferroviario regionale e questa è la cosa che a noi assolutamente non sta bene perché come dicevi tu giustamente prima 10.000 euro per trenare non sono niente 10.000 euro a un povero pendorare che si muove tutti i giorni in quelle condizioni non so almeno riduce il silenzio voi avete usato la parola intimidazione la confermi? la confermo la confermo e ti confermo anche il fatto che al momento nessuno né Fontana né l'assessore lucente che abbiamo sollecitato a muoversi affinché questa è una cosa vergognosa dal nostro punto di vista venga rimossa nessuno dei due ha proferito verbo il che significa che molto probabilmente sono d'accordo con l'azienda nel tipo di condotta che stanno portando avanti nei confronti del povero pendolare e quindi adesso cosa potrebbe succedere? quali sono gli scenari che si aprono? beh gli scenari che si aprono è che se Trenord non ritira questa richiesta di risarcimento danni si andrà molto probabilmente davanti a un giudice anche perché voglio riportare che lo stesso pendolare lo stesso rappresentante dei pendolari è disposto a difendersi e ha pure rincarato la dose nel senso lui non ha ritrattato minimamente quanto ha affermato ma ha detto mi smentiscano sul piano tecnico che quello che ho detto sono delle stupidate quindi c'è il rischio che vadano anche davanti a un giudice che facciano pure brutta figura perché io voglio vedere chi dice che questo pendolare nel criticare un servizio pubblico tra l'altro e in maniera circostanziata abbia leso l'immagine dell'azienda l'immagine dell'azienda si lede da sé con le soppressioni i ritardi le mancanze i bagni che non funzionano e via discorrendo ma è una situazione che va avanti veramente ormai da tantissimi anni è possibile che non si riesca a trovare una quadra una soluzione o anche solo migliorare qualcosa guarda non c'è stata realmente la volontà a livello regionale perché la scelta di affidare per dieci anni senza gara un servizio di vitale importanza a questa azienda che è un'azienda di fatto per metà di proprietà della regione senza particolari direttive fa sì che alla fine il servizio sia sempre lo stesso e parallelamente alcune scelte che sono state fatte anche giuste se vuoi c'era giusto far partire un piano d'acquisto di treni però nel momento in cui tu prendi i nuovi treni e non sei perfettamente in grado di gestirli perché ad esempio io prima parlavo dei bagni perché praticamente c'è questo disastro sui bagni nuovi per cui non sono praticamente utilizzabili perché l'azienda non ha un sistema in grado poi di svuotarli quando i treni sono fermi quindi praticamente tu hai dei treni che viaggiano e fanno anche delle percorrenze importanti senza bagno e questo è un tema cioè vai a comprare un treno nuovo lo devi immettere e non hai pensato come sistemarlo tra l'altro questa è una denuncia che fa il comitato Mimoal Milano Mortar Alessandria e per dirti è un'altra occasione rispetto a cui è uscito un comunicato stampa e rispetto a cui magari a qualcuno potrebbe venire in mente di scrivere lettere minacciando il rischio che questa cosa si possa ripetere adesso certo ma no è chiaro colpirne uno per educarne 100 noi siamo abbastanza convinti di questa cosa qua anche perché torno a dirti il tema vero è che noi nel mondo dei pendolari io sono rimasto stupito di questa cosa abbiamo persone molto competenti e che seguono da anni tutte le vicende della fuorovia vuoi per passione c'è chi è innamorato dei treni eccetera quindi spesso le voci che si levano da questi comitati sono voci di persone che vanno dritte al punto cioè non è che è gente che si lamenta tanto per lamentarsi è gente che ti dice guarda che quello che hai fatto non funziona e nel caso specifico Giorgio Tao aveva criticato la scelta dell'acquisto dei nuovi treni rispetto ai modelli di treni proprio su questo problema quando Legione ha comprato i treni già sulla carta se ne è accorto sul depliant sul depliant del concessionario se ne è accorto che non andava bene esatto fa capire però appunto la preparazione tecnica anche appunto di persone che non è il cittadino diciamo che potrei essere io che semplicemente dicci mamma mia non funziona tutto uno schifo tutto un magna magna non è quello cioè in realtà è gente che ne sa e si prepara cioè che per passione per mestiere per professione e per anche appunto poi utilizzo insomma se ne è preparata quindi Stefano guarda ti inizio aggiornato su questa situazione vogliono sapere come va a finire ti inizio aggiornato so che moltomente andrà per le lunghe però beh teniamoci in contatto allora va bene? assolutamente sì grazie mille grazie per lo spazio grazie a Simone Negri consigliere regionale regione Lombardia noi andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qui perché sono arrivati gli ospiti e vedo già Silvia Gatti al di là del vetro quindi fra poco qui con noi Silvia Gatti a Good Morning Milano Frank Valley Grease 8 e 07 questo è il Crystal History delle 8 qui su Good Morning Milano Good Morning Milano Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus ed è qui con noi dopo la sua sigla lei sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta con la faccia tv più a radio continuo a dire è necessario sì 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 senza baffi senza baffi non lo so te l'ho già detto se vi piace chiamatemi Silvia Gatti grazie wow che introduzione buongiorno a tutte a tutti è venerdì finalmente è nostro dire c'ha la febbre ha deciso di impestarci tutti ma non importa tutto bene no ti vedo già sudato è la terza camicia seconda ho cambiato la camicia sì molto bene ma la bella notizia di oggi oltre che è venerdì è che c'è un ospite pazzesca chi l'ha trovata? io Silvia Gatti chiaramente abbiamo in studio la dottoressa Vittoria Pietra buongiorno a tutti buongiorno dottoressa buongiorno la quale è una matta col botto ma lo dico nel senso buono perché ieri no non male come presentazione non male ma all'inizio cosa intendo perché ieri ci sentiamo per il consueto colloquio telefonico per mettere giù due cosine una pista linea da seguire e la dottoressa mi fa no ma io parlo tantissimo voglio tante domande e andiamo a braccio così improvvisiamo molto molto bene vero dottoressa? benissimo io ormai è un decennio che improvviso bravissima prima volta che è con noi ma in realtà diciamo che la sua presenza si era già sentita no? perché te lo ricordi il dottore Alberto Mattia di Pantarai certo che sì Mika ci ha fatto un bel podcast con la nostra dottoressa psicologa lei mi è psicologa psicologa e psicoterapeuta allora qua ce n'è di bisogno molto bene quindi poi ci metteremo d'accordo con vari bigliettini il numero della gatti ce l'ha già volevo dire che prima il direttore Fabio ha detto che io non ho bisogno di un dottore ma di un veterinario ma questo è un altro discorso comunque ecco questa è la linea e pensa gli voglio anche bene pensa se non me ne volessi o non me ne vorrebi la dottoressa mi ha detto ci diamo del tu e io le ho detto volevo darle del voi in realtà optiamo per il tu tutti va bene Fabio va bene cominciamo così allora dottoressa intanto cominciamo dalle cose più serie questo podcast pazzesco che lei fa con quell'altro matto col botto di dottore Mattia Alberto in che cosa consiste e soprattutto volevamo sapere ma com'è che vi siete conosciuti allora com'è che ci siamo conosciuti non ha tanto a che fare col podcast ma è una storia molto interessante era lontano 2004 2005 quindi tanto tempo fa vent'anni fa io lavoravo in un ospedale di Milano che si chiama San Paolo e lavoravo in pediatria e in psichiatria come psicologa e un giorno arriva una coppia di genitori con un ragazzo sui 16 anni e mi dicono noi abbiamo avuto una un'avventura particolare e abbiamo l'impressione che il nostro figlio aveva bisogno di un aiuto ed effettivamente aveva bisogno di aiuto ed era Alberto che cosa era accaduto che tutta la famiglia si era trovata coinvolta nello tsunami del sud-est asiatico del 2004 il 26 dicembre 2004 e Alberto nei mesi successivi come ovvio ed è naturale che sia aveva qualche problema d'ansia aveva dei pensieri un po' ricorrenti delle immagini che gli tornavano per cui si sono rivolte all'ospedale di loro zona e c'ero io e quindi l'ho conosciuto vent'anni fa fra l'altro Alberto per primo ci ha raccontato della sua esperienza quindi non stiamo dicendo cose troppo private sulla sua esperienza insomma è anche una cosa bella che comunque si parli delle proprie difficoltà si parli del fatto che ci si può e ci si deve rivolgere a un professionista quando si hanno problemi di ansia di qualsiasi altra natura psicologica psichiatrica migliora la vita aiuta a capire come siamo fatti quindi è una bella cosa che Alberto ci abbia detto ci abbia raccontato di questa sua esperienza e che si sia appunto rivolto a lei si è rivolto a me ci siamo all'epoca ci siamo visti per un po' poi lui mi ha ricontattato un po' di anni fa e da allora diciamo che è una una sorta di collaborazione amicizia collaborazione counseling terapia cose varie ed eventuali a un certo punto siccome Alberto io condividiamo una cosa siamo due abbastanza allergici ai luoghi comuni e detto questa così è veramente insopportabile come frase però la devo dire e quindi ci piace molto fare divulgazione un po' se vogliamo un po' controcorrente quindi questa cosa ce la dicevamo da tanto tempo e ci siamo detti scriviamo un bel libro siamo tutti e due due che amano scrivere io non avevo il tempo forse lui un po' di più lui scrive anche molto velocemente per cui qualche mese dopo mi ricontatta e mi dice ho trovato la soluzione d'oro facciamo un podcast perché scrivere è più lungo e impegnativo certo facciamo un podcast un video podcast ed è nata così nel senso che ci siamo detti quattro cose noi ci conosciamo da vent'anni per cui abbiamo mi viene da dire improvvisato lui ha scelto abbiamo scelto insieme un percorso che partiva dal rischio e finiva con la gioia del successo 21 episodi che sono tantissimi tantissimi ho scoperto e niente noi ci presentavamo nella sala di registrazione praticamente senza quasi sapere io almeno qual era l'argomento della giornata e quello che veniva veniva fuori diciamo che con una conoscenza di vent'anni ci vuole anche non dico poco però non bisogna preparare granché a volte basta una piccola scintilla una parola un tema e poi si chiacchiera come dico sempre nel senso più bello del termine la chiacchiera non è per forza leggera senza senso anzi ricordiamo un po' come si chiama questo podcast il podcast si chiama Human Human scritto You Human cioè tu uomo dove si può ascoltare si può ascoltare su Spotify e si può vedere su YouTube basta e cosa di cosa improvvisate su che temi improvvisate allora la traccia è Alberto ha trovato per ogni argomento il rischio la crisi la vergogna la speranza c'è anche il vaso di Pandora in epoca precedente ecco e poi c'è la vergogna poi c'è la resilienza poi c'è la gioia il successo il senso di colpa la reputazione la continuità la negazione questi sono gli argomenti l'ansia su ogni argomento Alberto ha trovato due citazioni più o meno erudite e e quello era il là era il là dell'inizio e il là della metà poi da lì il dialogo si svolgeva come si svolgeva io quello che ho scelto di fare dopo un po' ma in realtà lo faccio anche in terapia con i miei pazienti è se mi ricordavo e se trovavo dei miti collegati per esempio il vaso di Pandora vabbè era evidente ma il tallone d'Achille eccetera perché sono molto esplicativi e perché ci raccontano la nostra storia quindi li inserivo e devo dire che le persone l'hanno molto apprezzato perché o non li conoscevano o non se li ricordavano bene e poi io sono molto attenta all'etimologia delle parole ho studiato greco mi piace tantissimo per me è una lingua veramente che mi illumina e quindi insisto molto sull'etimologia delle parole detesto le parole dette veramente a caso mi danno molto fastidio è nel posto giusto dottoressa mi piace una parola si dice no improvviso la butta giù così facile e poi c'è dietro c'è dietro c'è uno studio pazzesco è un'improvvisazione ragazzi ben fatta c'è una preparazione che è qualcosa che noi ce la sogniamo ma certo ma va bene così noi invitiamo persone migliori il nostro mestiere è quello trovare le persone migliori di noi scovarle e farle venire qui in modo che possano influenzare in maniera positiva gli altri siamo un po' tutti influencer siamo tutti influencer non offendiamo voglio dire anche in casa un genitore influenza i figli siamo tutti influencer adesso influencer è una parola che va usata con molta parsimonia perché qua c'è un casino perché è quello che dice la dottoressa le parole bisogna usarle nella loro giusta connotazione collocazione effettivamente influencer ormai è diventata invece tutt'altro quando invece è vero tutt'altro non lo so è meglio dire content creator ecco ecco la dottoressa Pietra non ha i social però vogliamo dirlo non ha i social quindi non mi trovate da nessuna parte cos'è questa scelta però è una scelta per qualcuno che però va un po' oltre quindi comunque potrebbe voler divulgare la informa Alberto divulgo dal vivo io divulgo by real nel senso che divulgo nel mio studio faccio formazione quando mi invitano a fare formazione la comunicazione per me ha un emittente e un ricevente quindi già il fatto che io un ricevente non lo vedo non mi è simpatico per cui la comunicazione così spread nell'etere mi interessa molto meno non è un po' atipica sei un po' atipica sono molto atipica però ci piace così però Alberto ti informa comunque sull'andamento del podcast sugli ascolti perché lì si vuole avere anche un ritorno minimo perché sennò si sta parlando con un muro invece siete seguiti comunque non lo so non fare la modesta ha fatto un bel successo non lo so non so neanche a quanti seguaci siamo non ho idea seguaci adoro non lo guardo anche perché non avendo Instagram non saprei come far vedere comunque a proposito di social di internet fra poco parleremo del fatto che tu come tante altre professioniste professionisti durante il covid il lockdown e la pandemia avete usato diciamo questo mezzo per parlare e seguire comunque le persone che magari non si trovavano troppo bene passiamo un po' di musica arrivano in Nirvana con Smells Like Teen Spirit anni 90 grunge perfetto in onda su Crystal Radio Milano All News con Good Morning Milano Nirvana con Smells Like Teen Spirit 8.22 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano ancora qui con Silvia Gatti la nostra dottoressa buongiorno ancora dottoressa siamo ben contenti di riuscire finalmente ad analizzare Silvia Gatti e magari trovare una soluzione alle innumerevoli situazioni mi hai presa tu qui quindi ti faccio solo ricordare questo questa è la giusta risposta mi fa capire una sessione di gruppo infatti mi fa capire che qualche problemino faccio ce l'ho comunque Silvia dicevamo siamo qui con la dottoressa Vittoria Pietra amica e quasi collega di Mattia Alberto Alberto Mattia anzi scusate nome e cognome di Pantarei che è stato qui per due volte per parlare di come si affrontano le crisi a livello aziendale abbiamo parlato anche del vaso di Pandoro nel quale lui ha collaborato scrivendo circa 5 pagine l'ultimo libro appunto di Selvaggia Lucarelli ma abbiamo invitato anche la dottoressa perché insieme ad Alberto ha fatto anche un interessantissimo podcast che potete visionare su Youtube e su Spotify si chiama You Man ma vogliamo sapere di più anche della professione della dottoressa che comunque è psicologa e psicoterapeuta e si occupa quindi assolutamente di salute mentale senza social abbiamo detto la dottoressa non a social ma ha dovuto per forza ricorrere all'internet alla rete durante i lockdown quando non si poteva uscire di casa ma la gente aveva se non forse più bisogno del solito di aiuto e assistenza psicologica raccontaci Vittoria cos'è successo in quel periodo allora cos'è successo in quel periodo lo sappiamo un po' tutti ma c'è una cosa che vorrei sottolineare che mi aveva molto colpito all'epoca ovvero quelli che durante la pandemia mi hanno chiamato o contattato e mi hanno chiesto di venire dal vivo io in realtà un po' ho visto delle persone dal vivo quelli che proprio mi hanno detto io vengo solo se noi ci incontriamo di persone indovinate che età avevano i più giovani i giovani ecco questo è proprio l'inizio della riprova che la boiata dei nativi digitali è proprio una boiata nel senso che non sta in prima a me è un'idea completamente sbagliata completamente sbagliata loro patiscono moltissimo patiscono moltissimo il risultato si vede diciamo che le impennate dei disturbi psichiatrici degli accessi ai pronti soccorsi dell'aumento della depressione dei disturbi alimentari secondo me noi dovremmo un attimo riflettere su questa cosa e dirci ma perché ma non è stata la pandemia perché la pandemia ha segnato che non sono riusciti a fare la gita e sono rimasti chiusi in casa peraltro chiusi in casa i giovani con le famiglie che volendo potrebbe essere un problema però voglio dire non è che erano sole e abbandonati la fascia d'età un po' più in difficoltà era 25-35 con quelli che erano single però i ragazzi l'hanno patito molto il covid per tutta una serie di ragioni che in realtà sono ampie e diversificate quindi non so se è il caso di affrontarle o meno a me quello che ha colpito è che loro ci tenevano moltissimo mi dica quando va a buttare la spazzatura che quindi è in cortile io vengo in quel momento lì ma me l'ha detto più di uno e ho iniziato a farmi un po' di domande su tutto questo mondo digitale tecnologico che secondo noi per loro è confortevolissimo dove ci sguazzano ed è una trappola dalla quale fanno molta fatica ad uscire però comunque sì diciamo i mezzi tecnologici ci hanno digitali non so neanche come chiamare tecnologia vuol dire tutt'altro ci hanno permesso di rimanere in contatto in quel caso lì ho attivato messenger di facebook ho attivato skype basta direi basta non sono molto tecnologica neanche io in questo senso però sono contenta di sentire sono riuscita perché è estremamente facile non è difficile è un po' troppo facile è un po' questo il tema ah troppo accedere ma la domanda che proprio uno si fa ma funziona comunque poi la terapia funziona tantissimo funziona comunque ero molto più scettica e con i pazienti nuovi nì il fatto di vedersi con le gambe direi che è meglio però con i pazienti invece che erano già in cura diciamo ha permesso un salto ancora più vicino intanto perché ci si vede da molto più vicino ovviamente perché normalmente io ho un po' di distanza ci si vede da molto più vicino si captano molte più cose ci sono degli sfondi che se vogliamo sono più domestici quindi danno una dimensione diversa una rotondità diversa e poi comunque era un momento di crisi quindi le persone erano più scoperte ed erano più comunicative mi viene da dire più spaventate più comunicative in cerca di maggiore conforto perciò ha funzionato benissimo ottimo ad oggi non è che me lo chiedano proprio tantissimo me lo chiedono nel caso in cui ci siano trasferte viaggi o cose del genere per cui in realtà mi rendo conto che è sempre più piacevole venire c'era costanza c'è costanza nella richiesta di aiuto nel continuare la propria cura terapia costanza nel senso continuità nel senso che loro iniziano ma poi vede che c'è bisogno vedo che c'è bisogno più di necessario anche forse più di quello che loro pensano se vogliamo questo le persone arrivano al primo colloquio che hanno quella che noi chiamiamo la teoria della malattia e la teoria della cura cioè hanno una teoria sul perché stanno male e hanno una teoria del come possono guarire e quindi arrivano spesso facendo delle richieste molto chiare io sono troppo triste non voglio più esserlo oppure non voglio essere così sensibile normalmente sono queste io ho degli accessi di rabbia io ho troppa paura e io dal primo colloquio vedo un'altra cosa nel senso che se no non sarebbe il mio lavoro nel senso che io vedo altre cose che a me interessano di più e quindi se vogliamo poi è un po' una contrattazione per cercare di portare fuori quelle cose lì e a volte si prendono delle strade diverse che erano inaspettate all'inizio per il paziente ma molto proprio perché sono sorprendenti è molto interessante va avanti più a lungo se vogliamo se io facessi applicassi il manuale arriva uno con gli attacchi di panico perfetto in 12 sedute non c'è nessun problema lo risolviamo facciamo diciamo arrivederci grazie ho risolto tutto sarebbe un po' piatto un po' modello americano ah ok vede a me su di me non è che attacchisca molto ma io lavoro da 25 anni certo probabilmente lavorassi da 5 anni mi piacerebbe tantissimo adesso come ho detto io improvviso improvvisa tra virgolette anche durante appunto una seduta no assolutamente perché io non so che cosa mi portano le persone quindi o sono pronta o sono pronta o ho un'idea o leggo qualcosa o leggo nel senso vedo comunque non segue la strada che loro vorrebbero già portarle che loro le portano lei tira fuori altre cose che magari loro non stanno vedendo 10-15 minuti non decidono loro cos'hanno dopo il primo quarto d'ora io tiro fuori due cose all'inizio vedo le persone un po' stupefatte perché mi dicono no ma questo per me non è importante non ne voglio parlare no ma infatti lo ritiro fuori dopo altri 10 minuti e uno dice me non l'avevo mai pensato così però lì dentro c'è già la chiave del successo quindi è molto come si può dire non gratificante è molto tranquillizzante è la strada giusta sì perché poi tante persone arrivi e mi dico qua non finiremo mai io ho una vita complicatissima lunghissima tantissime cose io quello che spiego alle persone è che normalmente noi abbiamo in tutta l'umanità due o tre temi di vita centrali sono sempre quelli ma dai che peraltro condividiamo con la gran parte dei mammiferi è molto semplice allora mi dice quali sono questi due o tre temi globali dell'umanità va bene non credo che ve lo dirò ve lo dirò in separata sede dobbiamo pagare una seduta bravi io mi metto in fila allora andiamo con un po' di musica adesso è il momento di Gali con Paprika e poi torniamo qua sempre a parlare con la dottoressa avanti con la musica Gali Paprika Shiny Happy People e Rem alle 8 e 37 minuti siamo qui su Crystal Radio Good Morning Milano stavamo parlando di salute mentale benessere mentale e un po' fuori onda con la dottoressa stavo parlando un po' anche io perché dicevo ma non è che ultimamente se ne parli anche forse un po' troppo di salute mentale o meglio che si spettacolarizzi un po' il tutto allora sono d'accordo se ne parla troppo questo un po' a me mi spaventa perché come tutte le salite così impennate poi ci sarà una caduta verticale nel senso che noi i miei colleghi veniamo invitati dobbiamo sempre dare un'opinione su tutto a un certo punto le persone non ne potranno più cominceranno a dire vabbè mi curo per i fatti miei c'è una cosa sì c'è una cosa secondo me che ha reso che è quello che accade nella nostra vita normalmente una cosa che era sacra è diventata profana e questo è un passaggio importante tutti i social fanno esattamente questo lavoro qui il sacro è ciò che è un po' nascosto non toccabile da tutti il saccellum è ciò che è per pochi il profano è ciò che è davanti ed è visibile a tutti che è uno dei motivi per cui io non amo i social perché toglie sacro per me sacrificarsi o rendere il sacrificio è fare sacro qualcosa cioè renderlo privato importante denso di significato profano è visibile a tutti c'è una spettacolarizzazione l'abbiamo visto anche con i Ferragnez siamo entrati nella stanza della terapia più e più volte sicuramente può essere servito per togliere un po' questo timore delle persone che dico oddio entro lì dentro cosa mi metteranno degli elettro di cosa succederà sono spaventatissimo però poi è molto banalizzato e ha creato delle aspettative che poi non si io vedo poi lei non hai social per vedere ma mi sono conto che molti anche nella bio che hanno su Instagram così mettono anche la diagnosi a volte la DHD oppure borderline cioè che non c'è niente da vergognarsi ma forse è un po' eccessivo anche quello nel mettere in piazza sicuro non è più sacro e ciò che non è più sacro non è più curato è questo il punto ciò che è sacro viene curato con cura con attenzione ma ciò che è profano alla portata di tutti diventa spazzatura anche perché la DHD o il borderline però non metti se c'è la luce valgo cioè questo che vuoi capire poi non è che metti tutto però non è che metti tutto cioè quello è il problema nel senso posso portarvi però un esempio a me invece a me è piaciuto molto il fatto che ci siano stati dei protagonisti dei social dei personaggi che hanno un po' fatto vedere loro stessi anche nel loro disturbo ovvero lei dice sacro e profano io invece la vedo come nascosto di cui vergognarsi Pinna ok Andrea Pinna un influencer sardo che cominciò a fine anni 2000 quindi con MySpace i primi social è diagnosticato diagnosticato bipolare quindi e ne parla non minimizzando o banalizzando ne parla naturalmente portando delle esperienze proprio anche molto forti c'è tutto su web ha parlato anche di aver provato più volte a togliersi la vita e io questa cosa non la vedo uno spettacolarizzare la cosa la vedo come tu che mi stai guardando che sei un ikikomori ad esempio i ragazzi che si chiudono non in casa ma in una stanza della casa non ti preoccupare se ti vuoi uccidere se non ami la vita perché probabilmente può essere che tu abbia un disturbo psichiatrico non è finita devi però farti curare va ristabilita una certa mi perdoni la semplificazione chimica del cervello probabilmente quindi andate a farvi curare andate a chiedere aiuto ecco forse c'è una linea fra lo spettacolarizzare il banalizzare e il vedere che uno che ti piace che ti fa ridere da dieci anni dice io volevo ammazzarmi un giorno mi sono svegliato come i pazzi e ti fa pensare magari un pinna più un pinna che mi scusi più una vittoria pietra hai capito cosa intendo hai capito Fabio cosa intendo forse se te lo dice Fedez al salone del libro di Torino purtroppo è quasi meglio anche se poi ho sentito che parecchi psicologi si sono lamentati di questa cosa le diagnosi non sono dinamiche a quel punto sei categorizzato e questa roba è pericolosissima per i ragazzi per quella fascia d'età in cui io sono abbastanza abbastanza in evoluzione e sperimento cose diverse se incomincio a definirmi una DHD è finita cioè non sto rendendo conto dei cambiamenti dell'evoluzione che io avrò nell'arco di 4, 5, 6, 7 anni cambierò parecchio non vuol dire che diventerò un'altra persona però la mia personalità in qualche modo si evolverà dare una diagnosi agli adolescenti è un crimine da certi punti di vista allora un ponte se la comunità o il network ne parlano tra di loro perché gli aiuta a capire anche meglio il farmaco piuttosto che il risultato terapeutico non ci sono più confini non ci sono più confini ormai sono saltati poi i confini però appunto dal vostro mondo e l'altro mondo fuori che invece ormai sono completamente mischiati cioè confini non ci sono più cioè gli specialisti parlano con i pazienti ma i pazienti poi riportano ma anche le situazioni immagino perché poi adesso la dottoressa su questo è a mio parere giustamente critica ma poi ci sono anche tanti altri colleghi che invece vanno invece a festival o a fare situazioni dove trovi anche appunto l'influencer di turno il pinna che ti racconta l'esperienza sua che ben venga ma che non dovrebbe essere la bibbia di quella roba lì non credo voglia esserlo la bibbia lo diventa non deve essere il modello può essere l'esperienza il tema è che tutte le persone che parlano diventano dei modelli adesso non è più un racconto di un'esperienza che invece mi arricchisce e mi fa pensare a delle cose aspetta che tendo a quella roba lì lei ha iniziato a fare la sua professione immagino prima dell'avvento dei social più o meno il 2010 io mi sono specializzata in psicoterapia nel 2005 mi sono laureata nel 1997 quindi diciamo ho iniziato allora non c'erano ancora questi social no non c'erano affatto c'è tutto da rifare nel senso cancellarli completamente no 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 cioè quello che avete studiato quello che avete viene completamente ribaltato per colpa dei social oppure ma no i social sono di una semplicità e di una leggibilità e banalità estrema accessibilità sì no nel senso che noi siamo convinti che ci sia un mondo nuovo è sempre la stessa storia nella storia dell'umanità non abbiamo ancora inventato niente di nuovo non c'è stato nessun cambiamento se vogliamo il mezzo cambia ma la comunicazione tra esseri umani è sempre la stessa non è che se io sono un inchicomori sto comunicando in maniera diversa una roba che non esisteva 5.000 anni fa esisteva 5.000 anni fa il precursore di Chiara Ferran il precursore era Alessandro Magno Alessandro Magno ha fatto la stessa cosa arrivava prima la sua reputazione e quello gli apriva le porte delle città per cui gli veniva data la chiave della città ha conquistato il mondo è morto a 33 anni ha fatto delle cose incredibili se uno ci pensa niente di nuovo non stiamo inventando niente di nuovo i filoni sono dei mammiferi sono sempre gli stessi perché l'evoluzione è sempre la stessa e se così non fosse noi non potremmo fare questo lavoro perché ogni caso sarebbe strampalato alcuni specialisti dicono che appunto l'avvento digitale però abbia proprio cambiato un po' l'essere umano quasi anche a livello organico diciamo non ha cambiato niente cerebrale se vogliamo la postura di utilizzo del cervello sono molto aumentati i disturbi della spina dorsale questo sicuramente e disturbi visivi e un aumento di crisi epilettiche ma questo è collegato alla velocità dei lampi che io vedo e che seguo alla velocità dei giochi per il resto non è cambiato niente io sono attirato dalle stesse cose i bambini sono molto più visivi sono tattili e visivi i bambini prendono tutto con le mani e guardano fondamentalmente gli adulti riflettono pensano non hanno assolutamente bisogno di vedere continuamente la meditazione se vogliamo un po' più sull'interno e forse usano meno le mani o usano tutto il corpo ditemi qual è la differenza dell'adesso per questo che io trovo che in realtà i social media siano abbastanza primitivi nella loro forma la cosa più divertente è quando spiego ai miei pazienti che le app di dating sono esattamente quello che loro chiamano il terzo mondo perché esiste solo in India questa cosa che tu mandi una foto leggi altezza peso colore della pelle perché in India è importantissimo per poter combinare un matrimonio la gradazione di colore della pelle colore della pelle più o meno la nascita quindi da dove arrivano le famiglie quando ti devi sposare arrivano un po' di curriculum tu inizi a selezionare sulla base dell'immagine dopodiché che è il punto importante vai da un pandit un prete il quale mette insieme i pianeti e ti dice su 36 case almeno 18 devono combaciare che è uguale all'algoritmo che ti matcha con qualcun altro è uguale a quel punto tu che cosa fai? ti contatti ti colghi swappi qual è la differenza? no è vero effettivamente ragionandoci è il terzo mondo con tutto rispetto per il terzo mondo quando io vado in India mi danno sempre dei terzo mondisti mi dico certo che voi siete proprio un paese del terzo mondo tra poco parleremo anche del tuo rapporto con l'India è molto interessante quello che hai detto non avevo mai sentito matchare l'India con Grindr e Tinder e tutte le app di incontri sono scioccata sto volando è una cosa primitiva bella bellissima è un ritro stiamo tornando indietro a me fa anche simpatia adesso per me devi spiegare questo amore per l'India allora dove arriva adesso mettiamo una canzone e poi facciamo un bel viaggio in India allora va bene e allora andiamo quanti con Dua Lip con Training Season 10 minuti alle 9 bentornati in diretta con noi di Good Money Milano Milano All News alla redazione siamo in onda anche su Crystal Radio sono qui con il direttore Fabio Ranfi e la nostra super ospite di oggi la dottoressa Vittoria Pietra e adesso andiamo voliamo in India perché ci ha fatto appena nell'intervento precedente un interessantissimo paragone fra quello che succede in India quando si organizzano i matrimoni e quello che succede qui quando vogliamo matchare sulle varie app di incontri continua Vittoria è proprio lo stesso meccanismo nel senso che scelgo un profilo vedo una foto leggo quattro dati e nel caso dell'India è un prete che mette insieme le case dice ok 18 su 36 sono compatibili potete incontrarvi nel caso delle varie app invece c'è un algoritmo che fa lo stesso lavoro ma come mai tutta questa conoscenza in India da cosa deriva tutta questa conoscenza in India è iniziata nel 2010 dove sono andata per la prima volta e da allora ci vado una o due volte all'anno regolarmente e ho anche dei pazienti indiani e sono in contatto quasi quotidiano con i miei amici indiani per me è una è antropologicamente stato interessantissimo non misticamente perché a me l'aspetto mistico dell'India non attecchisce non mi interessa e non lo trovo un paese mistico per niente lo trovo un paese molto concreto molto terra terra beh proprio vedi la storia dell'umanità lì la vedi svolgersi davanti ai tuoi occhi e loro te la raccontano anche con molta chiarezza sono anche molto netti è successo tante volte che degli amici indiani venissero in Italia in vacanza con noi e più di una volta dicessero voi siete un paese del terzo mondo loro a noi che tu all'inizio dici va vabbè dai poi te lo spiegano e ti dicono ma per esempio voi seppellite i morti cioè voi mettete delle persone in una bara piena di piombo colla resine eccetera eccetera sotto terra ci parlate di inquinamento delle terre dei fiumi fantastico li mettete sotto terra li tenete lì è chiaro che c'è una decomposizione comunque quindi che cosa sperate non è che siete egiziani che mummificavano cosa sperate di ritrovare questa è la vostra cura non vi rendete conto che non c'è niente di più puro e purificante del fuoco la cenere addirittura noi la usiamo la usavamo per lavare le lenzuola nel senso la cenere purifica concima e quindi loro ti dicono ma scusate voi un'economia circolare per voi non esiste nel senso che io sono utile nato morto vissuto spirito sono sempre su questa terra uno a zero per gli indiani bloccate tutto lì dentro inquinando la terra da morire su quello devo dire forse hanno anche ragione vabbè non parliamo dei loro montagli di rifiuti quella cosa lì mi ha fatto pensare parecchio noi diciamo l'india è molto grande come si fa ad accomunare un pensiero per tutti gli indiani io penso che ci siano delle situazioni molto diverse vediamo ad esempio la bollywood indiana con sfarzo opulenza e poi vediamo persone che vivono e lavorano a ridosso di rotaie funzionanti quindi con treni che ti passano vicino come ti passano a zanzara qua a milano quindi di che india stai parlando anche di persone che si possono permettere una tua l'india è una nonostante sia così immensa che ho girato quasi tutti enorme nonostante il miliardo e quattrocento milioni per una cosa pazzesca gli indiani sono sempre indiani ovunque io vado nord sud centro est ovest indipendentemente dalla loro un miliardo e quattrocento milioni penso sia dieci volte l'italia l'india più o meno una cosa del genere noi siamo 60 milioni non riusciamo a essere italiani e loro ce la fanno essere indiani loro hanno un orgoglio nazionale pazzesco che noi non abbiamo è un'emozione per loro fondante quello dell'orgoglio e a me è stupito molto io sono andata in India anche durante il covid non dovevo andare lo confesso ci sono andata più e più volte è caduto in prescrizione è stata proprio la riprova che le news che arrivavano erano completamente sbagliate perché ho trovato un mondo molto diverso da quello che ci aspettavamo bruciano i morti per la strada c'è l'India dove il distanziamento sociale è valorialmente impossibile per loro è un disvalore un disvalore assoluto e l'igiene l'igienizzazione è un tema ed è un grosso problema dal covid doveva uscire non decimata una strage è sempre lì sta bene lì quando io mi sono presentata con la mia bella vaccinazione AstraZeneca per la quale ho avuto anche un po' paura di morire perché è stata molto male mi hanno detto ah per fortuna che sei AstraZeneca perché se tu fossi arrivato erano già trivaccinati tutti io ero neanche alla seconda dose avevo prenotato la seconda dose erano già tutti trivaccinati in maniera capillare per fortuna che sei AstraZeneca perché se fossi stata moderna non scendevi neanche dall'aereo perché l'altro è acqua sporca quindi AstraZeneca è l'unico vaccino che funziona per fortuna avevo quello ma la cosa interessante è che là dentro mi hanno tracciato hanno saputo qualunque spostamento io abbia fatto un miliardo e quattrocento milioni di persone una foreigner qualunque che arriva a terra e se ne va io vado a fare i safari vado a vedere le tigrie ero isolata in un camp 30 chilometri di sterrato sono venuti a prendermi e mi hanno detto scusi ma la home quarantine dove la sta facendo? comunque la dottoressa se l'è viaggiata di qua e di là insomma anche quando non si poteva quindi grandissima questo coraggio ci ha offerto un interessantissimo punto di vista molto molto insolito rispetto a quello che abbiamo noi di solito verso l'India Fabio la ringraziamo è ora di chiudere di già è ora di chiudere sì ci rivedremo lo dite a me oggi non so come ho fatto ad arrivare fino a quest'ora dalle 7 che sono qua non so neanche come ho fatto ad arrivare quest'ora ma devo dire che nonostante questo avrei lasciato comunque ancora un'altra ora assolutamente davvero molto molto interessante dottoressa grazie mille davvero grazie a voi grazie a voi Silvia grazie anche a te con noi che ci vediamo la settimana prossima fra due settimane la settimana prossima non ci sei e se vuoi mi inviti io vengo non so se sarò vivo porto due cose da bere da mangiare anche un attacchi pirina magari grazie che mi può sempre servire grazie a tutti e a tutte grazie a tutti andiamo con la sigla allora perché siamo in chiusura e quindi sigla